Chi sono? Sicuri di volerlo sapere? La storia della mia vita non è per i deboli di cuore. Se qualcuno ha detto che era una bella favoletta, se qualcuno vi ha raccontato che ero solo un tizio normale senza una preoccupazione al mondo, quel qualcuno ha mentito. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Un guerriero astuto non attacca né il corpo né la mente. Il cuore, Osborne. Prima di tutto lo attacchiamo al cuore. Questo costume non ti sta per niente bene. Hai bisogno di uno nuovo. Guardati, che bellissimo ragazzo. Portami delle foto di Spider-Man. Io sono Spider-Man.